Ciao Caterpies e bentornati per un'altra puntata sul canale iCaterpie Quest'oggi andremo a fare l'evoluzione di Servain in Serperior Ho già acquistato i cristalli che mi servono per cui dovrei essere a posto E dopodichè andremo a sconfiggere Norman, non ho il minimo dubbio che sconfiggeremo Norman Per prendere un'altra medaglia Prima però, sigla! Bene, eccoci qua Allora, prima cosa da fare, abbiamo detto, evolvere Servain in Serperior Sono già entrato per prendere i cristalli che mi servono Ho portato al massimo livello possibile il Servain che è il 70 Per cui ho da affrontare Brock Spero vivamente che possa bastare tutto questo Non so bene cosa aspettarmi da Brock, non l'ho mai considerato granché E' tanto che vi aspettavo di lottare quasi seriamente contro di te Vai Servain Bloccheremo i vostri colpi con una parete rocciosa Allora, Brock se l'hai tirata un sacco Vediamo se Allora, attacco speciale Allora, lui non mi fa granché Ah, io nonostante sia a livello 70 non è che gli tolgo granché Tra l'altro lui attacca molto velocemente Forza, 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 forza Oh, brutto colpo No, c'avevo l'unimossa che arca Mi ammazza? No, non mi ha ucciso Tocca a me Forza, forza, forza E sei anche debolezza Vedi di fargli male Oh, no Fuori, attacca, 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 attacca Sì Mamma mia, si era grosso Vittoria Molto bene, molto bene La tua apparenza ci ha frantumati Uff Il mio servano è più carico che mai Forse, forse Si sta evolvendo Si è evoluto in serpere Guardate che bello La miss 30 gem Oh, il mio primo La mia prima evoluzione completa Molto bene Molto bene Molto bene Caspita, sei grosso Guarda che bello Tieni, un pensierino per te Molto bene Otteni delle monete Otteni delle gem Dunque Serperio l'abbiamo fatto E ora ci aspetta Norman Per lui la potenza è tutto Norman era tipo normale Se non sbaglio Perfetto Per una bella lotta di Pokémon Chi sarebbe il capo del WPM? Siamo alla Norman Un capo a VEsta di Owen Vedremo della stessa gioia Siamo entrambi in capo a VEsta Poi non è tuo padre LOL Non mi successe è stato Capo Mi fa piacere il tuo Abbiamo un'opinione Di mio padre Va bene Va bene Quindi devo lottare contro il padre Ok Ah sì Certo Era quello con l'Inun Tipo Quindi lotta e acqua Allora Abbiamo detto Lotta e acqua Quindi Di lotta avevo Il Conkeldur E il Lucario Vediamo Attacco 62 157 Questo invece Ha più attacco Ragazzi Direi Direi che il Lucario Di Onela Mi ha convinto E poi Acqua Chi c'ho D'acqua No Cambio anche Brandon C'ho un Servanel 70 Per cui Aspetta un attimo Perché se non sbaglio A Misty Le avevo dato L'idropompa No Scherzavo Va bene 30 70 20 Vediamo Lotta e acqua Questa è la mia formazione Barry Mi ha già Sorpreso una volta Per cui Chissà che magari Ripeterà il tutto Non mi farò Intimidire Ah bella Questa è da 1 Ottimo Allora Serperior È grosso Zuffa Deve saltare in aria Quello proprio Boom Right All right Tutto bene L'umiltà Importante Vai 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 Fuori 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 Via uno sotto un altro Perché l'acqua poi Mamma mia che strazio Eccetera eccetera No No Il tizio Si è tolto la maschera Aspetta ma Quello era uno dei cattini Vabbè Ta 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 niente questa mossa speciale di serpereo è troppo forte il fatto che mi riempie la barra è davvero qualcosa di incredibile non mai lucaio tra l'altro ha zuffa che mi riduce la difesa ma me frega un poco e niente nel senso che tanto devo minare con quella per cui team break mai sentito bella gli altri sono già al massimo ha guato nel cuore del monte ho come impressione che salta fuori il team break siamo vicini papà si rifugiata in cesta nella montagna perché anche a rilascio è un buon allenamento allenatore mascherato vuole lottare qui praticamente c'è chiunque basta che si metta una maschera ed entra a far parte del team break così ahi me la farò anche io la maschera così raga ok ah qua ha invertito lott e acqua quanti sono allora bolla continuo di bolla così ne faccio fuori due alla volta ah anche quello con comete fa questa cosa go for it va bene dai voglio vedere l'unimo se lucario ah diventa mega lucario wow ah ma anche questo è grosso bolla raggio bolla raggio bolla raggio bolla raggio sluq ma usa l'unimo se wow ok non capisco perché le mie unimossa vanno soltanto verso uno mentre le unimosse molto spesso le unimosse di chi mi sta davanti va a beccarle tutti e tre vabbè vabbè luca o strong oh dio c'è un piplup stai parlando vabbè team break fatto fuori break o break vabbè lucario lucario avvertà la presenza di tanti allenatori mascherati senti io io sono qua per norman c'è allenatori mascherati zorro dopo a tranquillamente vedersi da solo per i fatti suoi cioè di cosa stiamo parlando ancora eh vabbè ci siamo ci siamo ci siamo qui ce n'è una e altri che si fanno i fatti loro no mi basta lei va bene ah vabbè c'è proprio chiunque cioè chiunque con la maschera ora è il cattivo va bene sono due e mezzo per cui wow bollaraggio l'ha fatto quasi male poi c'è il nasi più debole lotta perché è anche il tipo buio vabbè oh vabbè vabbè se muore anche col bollaraggio non è che stiamo lì a fare l'unimossa ogni volta no? no però viene già il serpeno su cui poter contare in caso di bisogno è tanta roba che sta facendo ah stava contando le persone che la seguono molto bene qui sono un montanaro ho un fisico potente ma un animo delicato beccato che caio sono solo in tre tutti debole lotta per farci forza 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 Let's go, attacca attacca attacca, forza Oh, molto bene Bello è che puoi anche mettere in coda le mosse Perché ho cliccato prima su una e poi sulle altre, per cui infatti me le ha messe tutte in coda Buono, comodo Dio, sei grande e grosso, anche se ti meno un attimo, non è che muovi, eh Sì, sì, Barry, sei fortissimo Resa dei conti sulla vetta Vuoi dire che abbiamo finalmente beccato Norman? E tu chi sei? Eccoli Doh, c'ha lo slacking Che strano avverti qua su in montagna Piuttosto ti ho portato uno sfidante Mi chiamo Norman, sono anche un capo del WPM Ho preso una sconfitta, sono ancora male Ma buttati, zio Norman, forza Mi chiedo se slacking qui attacchi una volta, sì, una volta no Va bene Sono pronto, Ornella non ha paura Ah, ne ha due sui lati Per cui Ho fatto fuori uno Ok, questi sono tutti deboli Popom, 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 popom Dai, piplup, un mitragliatore ti voglio Eccolo qua Megalo, 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 cario One shot? No Molto bene Due sono andati Bomba No Quello è successo? Si è curato Per fortuna che c'ho quel Serperior che mi salva da tutto Mamma mia Raga Megalucario Mena un casino Ma Serperior MVP Serperior MVP Tanta roba, tanta roba Guarda, ringrazio tutti quelli che mi hanno consigliato di tirarlo su Io l'avrei abbandonato Per cui Bella Grandi, raga Grandi FANTASTIC WORKS FANTASTIC WORKS Stavo per te ma mi ha fatto tanto piacevole se è un passo davanti a me Buttati, Owen Poi fate, c'è un rock, la fioce, ho già il lica, il rock, insomma, di qua stiamo parlando Mettiamo qui, ne abbiamo incontrato, qui ne abbiamo dato una bella lezione Ecco Hai fatto abbassare, hai fatto arrabbiare il tipo Che sbadato, abbiamo cambiato discorso e mi sono scuolata una medaglia Questa è una medaglia pazzi Ma insomma Devi darmi la medaglia Oh Allora Partiamo dal presupposto che magari io potrei anche non volere Darti una mano Poi non capisco Cioè mi vanno a destra, la medaglia no Voglia, la medaglia Vabbè Slaking proteggi gli altri Cosa è successo? Anche se può passare il bloccato è semplice di cercare un altro Volere e potere Cioè qui non so, non mi hai dato la medaglia ma ora sono bloccato qui per colpa tua Vabbè Vabbè Nooo dai mi hai deluso, mi hai deluso Eri così carino e patatoso Male zio, male male Vabbè 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 Sì io in realtà volevo attaccare il Nord questo però vabbè Vabbè Mega Lucario Boom Raga Raga queste nuove mosse mi ingasano un sacco Sono delle mattellate della madonna che arrivano Guà Zio 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 C'è sempre qualcuno che si arrabbi Fai bene va la buttati va E' così carino e coccoloso Guarda Preparate tra i Brick Ranger Che abbiamo fatto la catena non cambia cose a caso Vabbè Cose dette completamente a caso Pur di lottare Ci sta C'è anche Pedobear Bolla 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 Va nel frattempo che faccio fuori il point Averrà fuori anche quell'altro Forza 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 Ok 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 Vuoto onda Mega Lucario Vabbè raga finchè sono tutti deboli lotta Un Mega Lucario può far saltare in areale le persone Ci sta Che ha 600 danni Che vi serva le azioni Qua vi serva le azioni Hai perso Vabbè Bravo people Sai di livello Sei fortissimo Barry Barry Come ti chiami zio Il capo preso di mira Il capo preso di mira Vabbè siamo in 15 dentro stalla grotta praticamente Hai trovato l'uscita Ma quanto sei bravo Se siete provate provate tutto ancora ma gettare la spugna L'uscita deve essere poco più avanti Ancora voi il team break che volete da me Vabbè ma vorranno fregarti il Ma dalla monte il VPN Non mi interessa se non sei ovvio Vosti metodi sono spugibili e questi imperdonabili Cattro il più aiuto della mia azione Bah 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 Senti non è che perché c'è la maschera e il vestito figo Allora puoi permetterti di dire chissà cosa Versus team brick grotta 2 Let's go Dai 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 facciamoli fuori alla svelta che vogliamo ammiraglia Forza Allora abbiamo detto iniziamo con far fuori quello Non gli ho fatto niente Va bene quindi Spau di zuppa Ok stavolta è andato Unione rinnovata E ora posso andare avanti di bolla go go Mi ha paralizzato il serpello Vabbè tanto non ci devo attaccare con lui Forza bolla 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 Aia Aia Nooo non ci credo Un'immossa 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 Devo sperare di fargli qualcosa perché altrimenti è finita qua Non gli ho fatto nulla Ma meno male che stanno continuando ad attaccare quello va Aia I' tradizioni Un'immolla Un'immossa Aia Un'immossa 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 No, dai, dai, dai Oh Mamma mia, oh Quel Be Weir Mamma mia Dannato Pedo Bear L'ho davvero sottovalutato Non pensavo potesse farmi così male Sei fortissimo, Bear Mamma mia Probabilmente mi sa che devo continuare ad allenare i Pokémon Il livello 30 non è abbastanza Ah, vieni da me slacking Molto bene Non credete sia finita qui Ma buttati Sì, vabbè, è un pezzo di metallo Ero capace di farlo anch'io questo La medaglia pazienza La siete guadagnata, molto bene Oh, c'ho padre e figlio in squadra Siete così Ero un spirito di trattata di Caterpie Vabbè Ti ringrazio per la medaglia Sì, vabbè, fammi capire Io t'ho dovuto battere per la medaglia A questo invece ha dovuto semplicemente sfruttarmi Vabbè Mi nome è Norman Mi nome è Norman Che figo Quello slacking è davvero figo Nuovo capitolo sbloccato Vediamo cosa ci aspetta La droezza dell'inverno sarà il prossimo capitolo Quindi ragazzi Come al solito Tenete allenati i vostri Pokémon Perché qui gli allenatori Stanno diventando più forti che mai Per cui Adesso siamo a capito Lotto Li voglio vedere almeno tutti A livello 30 Altrimenti non si va da nessuna parte E poi volta per volta Si potenziano Al 45, 50, 70 Quello che è Tutti quelli che ci servono Per cui diciamo Prossima volta Andiamo a farci un'altra estrazione Perché mi sta diventando troppo a estrarre Tanto di gemme qua siamo pieni Per cui Bella lì Ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Così fosse Mettete un bel mi piace Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo presto Con la prossima puntata Ciao Caterpils Ciao Caterpils